allora possiamo cominciare buonasera a tutte a tutti bentrovati oggi presentiamo con grande piacere da parte mia il libro di elena casetta filosofia dell'ambiente edito dal mulino ne parliamo insieme a temo pievani che la mia sinistra e maurizio ferrari su ovviamente con l'autrice elena casetta che molti di voi conosceranno visto dei studenti visto dei colleghi elena è docente di filosofia teoretica presso la nostra università qui a torino insegna filosofia della natura filosofia biology per il curriculum in inglese e ambiente ed etica questo libro nasce senz'altro dagli interessi di ricerca di elena casetta ma nasce anche da un'esigenza di carattere didattico seno particolare al corso di etica ambiente elena ha individuato l'esigenza di scrivere un testo che fosse di introduzione alle questioni ambientali che poi venivano affrontate a lezione questo libro nasce quindi da questa esigenza didattica e nella forma se qualcuno di voi ha cominciato a sfogliarlo vederlo si presenta effettivamente anche come un manuale molto ben scritto molto chiaro e ricco di esempi ricco anche di quadri esplicativi dei delle fasi e delle questioni più difficili da da esporre è un libro che mi piace definire anche molto generoso e molto rigoroso allo stesso tempo generoso per la quantità di informazione di contenuti che offre e rigoroso per la forma nelle quali questi con questi contenuti vengono presentati ha quindi una forma anche introduttiva ma è qualcosa di più è anche una proposta vera e propria cioè non ha un punto di vista neutro difficile difficilmente si potrebbe avere e nella casetta sceglie di approfondire le questioni di filosofia ambientale a partire da la questione dell'ambiente naturale del vivente e sulla base della biologia evoluzionistica della biologia dello sviluppo dell'ecologia e si focalizza appunto sul concetto di ambiente del vivente la anche la forma nella quale viene esposta la proposta di Elena è quella di un negoziato concettuale nell'espressione utilizzata da casati e ripresa espressamente da Elena in introduzione del volume secondo il quale si imbastisce una spiegazione una narrazione che permetta di ricomporre una tensione concettuale quando questa tensione concettuale è tale da meritare una rinegoziazione una spiegazione nuova appunto quando siamo davanti a un sorta di cambio di paradigma e probabilmente la nostra condizione rispetto alla crisi ambientale richiede un nuovo punto di vista una nuova prospettiva il libro è articolato su cinque capitoli il primo è dedicato alla introduzione storica del concetto di ambiente come una necessaria introduzione rispetto a un concetto come quello di natura che non poteva restituire la relazione il concetto relazionale che sta alla base del legame tra gli organismi e i loro dintorno il secondo capitolo è dedicato invece dal titolo comprendere l'ambiente è dedicato a una teoria causale dell'ambiente dove espone Elena la concezione linea la causazione lineare la causazione clinica ciclica scusate e viene introdotto non è male clinica si ed espone la teoria della costruzione di nicchia tra le altre cose il terzo il quarto capitolo sono invece dedicati espressamente all'ambiente umano il primo dei due il terzo capitolo dedicato a costruire l'ambiente umano e finalmente fa un focus anche sul concetto di antropocene intesa come forza biogeofisica globale ed espone anche una teoria abbiamo qua uno degli autori di questa teoria dell'antropocene inteso come monumentale processo di costruzione di nicchia probabilmente avremo anche occasione di parlarne e poi il quarto capitolo invece dedicato alla conservazione della natura con un focus anche sulle classiche contrapposizioni distinzione naturale artificiale culturale naturale che vanno riviste anche alla luce di ciò che emerge dal testo infine il quinto capitolo che ha per titolo far fronte alla crisi si pone dalla prospettiva contemporanea e analizza la necessità di ripensare l'ambientalismo e anche il concetto di natura sulla base della nostra condizione attuale ho detto qualcosa a proposito del libro ne parleremo adesso insieme a telmo pievani e maurizio ferrari siamo organizzati così parlerà prima telmo pievani dopodiché sarà la volta di maurizio ferrari se lasceremo le conclusioni provvisori all'autrice e poi apriremo il dibattito tra di noi di nuovo e chiaramente con con voi inizio a presentare telmo pievani che ordinario presso il dipartimento di biologia dell'università di padova dove insegna filosofia delle scienze biologiche filosofo della biologia ed esperto di teorie dell'evoluzione ricordo solo alcuni tra i suoi libri più recenti la natura è più grande di noi solferino 2022 serendipidità l'inatteso nelle scienze cortina e finitudine un romanzo filosofico su fragilità e libertà anch'esso cortina grazie grazie emilio buonasera a tutti grazie di questa occasione a irena complimenti a questo lavoro allora emilio ha già fatto una sintesi della struttura del lavoro quindi questo ci aiuta perché mi permette di entrare nel merito di alcune delle questioni che avete sentito adesso richiamare e penso che questo possa essere il modo migliore per come dire rendere utile una presentazione e quindi elena comincio a a proporti degli slanci in avanti rispetto alla tua filosofia dell'ambiente e sulla quale concordo molto che però è una sfida anche per capire il presente e il futuro almeno per chi fa il mio il mio mestiere di evoluzionista allora la prima provocazione che ti lancio è questa qualche settimana fa un lavoro piuttosto recente che è uscito su science su una rivista molto importante un gruppo di ecologi cappeggiati da erl ellis che è un grande ecologo di baltimora dentro c'è stu arpi un bel gruppo di ecologi hanno pubblicato un lavoro nel nel cui abstra c'è una frase molto provocatoria una domanda in realtà provocatoria che e se la natura vergine fosse un mito perché c'è questa domanda provocatoria perché il questo lavoro mostra due dati sostanzialmente la faccio breve il primo è che se lo andiamo a guardare già all'inizio della della transizione neolitica quindi 11 mille anni fa tanto per intenderci quando gli esseri umani cominciarono a imparare ad addomesticare le piante e gli animali si scopre che già a quel tempo quasi l'ottanta per cento della superficie terrestre abitabile era abitata da esseri umani cioè la presenza umana era già molto distribuita molto pervasiva e questi gruppi umani lasciavano un segno dentro questa natura il secondo dato che è complementare a questo è che ancora adesso i luoghi sulla terra dove c'è più biodiversità dove c'è più diversità di piante e di animali e di organismi stranamente non sono quasi mai o non necessariamente quelli rimasti privi di esseri umani da sempre ma al contrario sono quelli in cui la presenza umana è molto antica e naturalmente la presenza dei nativi dei popoli nativi di quei luoghi che si dice in questo lavoro hanno sono coevoluti con il contesto ambientale in acquistavano e hanno fatto manutenzione di quel contesto ambientale però la manutenzione è interessante no una millenaria manutenzione della biodiversità questo è piuttosto controintuitivo perché noi siamo abituati invece a pensare che le piante gli animali la biodiversità stia nei luoghi vergini no pristini come dicono anche si dice anche in inglese no privi da sempre di una presenza umana beh non è così quanto meno dai dati un altro lavoro che appena è uscito molto bello fa vedere che persino l'amazzonia luogo per antonomasia che noi associamo alla giungla più selvaggia e priva di antropizzazione in realtà è stata plasmata dagli esseri umani per migliaia di anni e questo è un fatto interessante che penso come dire un libro come questo ti possa permettervi se vorrete prendere come vi suggerisco sicuramente di vi da una chiave di lettura per capire questo che in fondo poi sembra qualcosa di molto esotico ma vale anche per la nostra terra qui noi oggi sappiamo che lo spopolamento delle montagne per esempio italiane ha portato a una riduzione della biodiversità come diavolo è possibile se ne vanno gli esseri umani e uno immagina beh le piante gli animali tornano a riprendersi i loro spazi e tornano a proliferare no l'abbandono delle montagne ha portato una riduzione di biodiversità perché in realtà la presenza umana discreta naturalmente comportava per esempio una segmentazione degli ecosistemi più ricchezza di ecosistemi e quindi più biodiversità tutto questo è piuttosto strano per noi immagino che generi un po di disorientamento da cosa deriva il disorientamento e che noi abbiamo nella nostra mente delle categorie molto potenti molto forti che erena descrive discute molto bene in questo in questo libro una categoria è quella di pensare che la natura sia sana e buona quando non c'è dentro una presenza umana no che fa parte di quel tutto quel modo che abbiamo di trattare la natura come un'autorità morale come il luogo dell'equilibrio dell'armonia e anche se non siamo così ingenui da pensare che la natura è buona però comunque siamo abituati a immaginare che la natura in quanto sta lì da millenni e da miliardi di anni abbia sviluppato degli equilibri millenari che noi andiamo a turbare in realtà chi studia l'evoluzione sa che la natura è disequilibrio non è equilibrio dove c'è equilibrio c'è morte di solito natura è flusso di cambiamento è disequilibrio e la stessa cosa tra l'altro parentesi vale anche per i popoli nativi che ci abitano dentro perché abbiamo sempre questa tendenza un po' discutibile a idealizzare no pensare che siano quasi dei fossili viventi no che siano lì da sempre uguali a come erano diecimila anni fa e senza invece riconoscere la loro contemporaneità cioè il fatto che hanno avuto la loro storia i loro conflitti i loro difetti i loro problemi si sono evoluti e cambiati anche loro in parallelo con noi scegliendo un modo diverso di vivere io mi ricordo quando feci una ricerca in in ecuador con dei colleghi con mi è capitato di discutere con un capo tribù shuar che sono queste popolazioni native dell'amazzonia ecuadoriana mi ricordo sempre che a un certo punto mi guardò mi disse guarda che a me non dispiace il progresso e che io ho un'idea di progresso diversa dalla tua mi ricordo che mi mi sfido con questa con questa cosa mi colpì molto ecco questo libro ha a che fare con questi grandi temi secondo me li affronta in un modo molto avanzato molto insomma serrato come diceva giustamente emilio quindi un libro densissimo ma anche molto ben scritto quindi non preoccupatevi e gli elementi che io trovo diciamo tra i tanti interessante che richiama appunto come diceva emilio prima questa idea della costruzione di nicchia che è la chiave di lettura di quello che vi ho appena detto poc'anzi nel senso che cosa vuol dire costruzione di nicchia è un'idea per nulla originale che venne sostanzialmente intuita da Charles Darwin in un libriccino meraviglioso che non so se avete letto leggetelo è molto divertente Darwin un anno prima di morire scrive un libro sui vermi sui lombrichi e spiega molto bene come questi animali che sembrano acquatici in realtà riescono a ricostruire un loro ambiente terrestre generano l'humus in questo libriccino che tra l'altro fu un grandissimo successo ha venduto un sacco di copie Darwin difende due idee sostanzialmente la prima è quella solita sua del gradualismo dell'evoluzione con toni quasi che troviamo poi in Brecht tempo dopo cioè dice Darwin la natura è un sistema di relazioni in cui grandi opere sono state ottenute dall'umile azione di milioni di esseri invisibili e questa è la tipica idea della continuità darwiniana e poi la seconda idea che c'è in questo libro è appunto quella che poi Elena sviluppa molto qui e cioè dice Darwin attenti perché non sempre gli organismi si limitano ad adattarsi passivamente all'ambiente cioè al quadro di pressioni selettive in cui sono immersi e così vi ho dato una delle tantissime definizioni che possiamo dare di ambiente per Darwin è un insieme di pressioni selettive sugli organismi perché c'è sempre ovviamente il punto di vista di un organismo rispetto a un contesto di relazioni che anche la definizione da cui è nata la stessa parola ecologia di Ekel che interpreta Darwin in questo senso però Darwin dice a volte può succedere che un organismo trova una strategia costruttiva attiva di adattamento cioè non si limita a rispondere con degli adattamenti a delle pressioni selettive ma modifica attivamente il mondo attorno a sé modifica il quadro delle pressioni selettive che poi retroagiscono su di lui i lombrichi dice Darwin con la loro lenta azione hanno plasmato il paesaggio inglese hanno permesso l'agricoltura della mia nazione dice hanno cambiato il mondo si sono adattati plasmando il mondo a sé ed è quello che poi dirà Dick Lewand il molto tempo dopo cioè che alcuni organismi tra i quali i castori che sono citati spesso da Elena che fanno le dighe o i lombrichi o i cianobatteri che inventano la fotosintesi e riempiono l'atmosfera di ossigeno che è un veleno per gli esseri viventi o noi umani dice Lewontin abbiamo capito a un certo punto che potevamo anziché adattarci all'ambiente adattare l'ambiente a noi e questo è un gioco pericoloso è un gioco eccitante è un gioco che ci ha dato grandi vantaggi grande benessere per una parte sempre dell'umanità ma che oggi significa anche climate change per esempio significa antropocene significa avere letteralmente impregnato gli ambienti gli ecosistemi di artefatti umani sempre che si possa distinguere tra naturale e artificiale giustamente Elena mette radicalmente in discussione questa dicotomia come giusto come giusto che sia se però vogliamo prenderla sul piano strettamente quantitativo se noi pesiamo tutti gli esseri viventi sulla terra tutti gli esseri viventi pesano circa 1,1 tera tonnellate sono 1100 miliardi di tonnellate nell'anno 2020 il peso degli artefatti umani nel senso degli oggetti d'uso della vita umana gli edifici le strade gli arredi tutto quanto nel 2020 hanno raggiunto il peso della biomassa cioè gli artefatti umani pesano come tutte le piante tutti gli animali messi assieme non era mai successo prima ovviamente nella storia del mondo della storia evolutiva anche questo ambiente no è chiaro che se questa è la situazione oggi che cosa è naturale artificiale se io vivo in un ambiente che è impregnato di cose umane in fondo potremmo dire che tutte sono naturali a modo loro no dipende solo dal tipo di origine che hanno che hanno avuto quindi che cos'è l'ambiente Elena vi risponderà dopo sulla base di queste sollecitazioni io aggiungo forse dovremmo anche chiederci che cos'è l'ambiente tra l'altro curiosità persino il fondo ambiente italiano il FAI ha organizzato l'anno scorso un convegno perché vuole ridefinire la sua dicitura perché ormai ambiente non va bene neanche per loro quindi perché è un ambiente appunto dove dobbiamo difendere paesaggio elementi umani coevoluzione tra ormai inscendibile e inestricabile tra elementi naturali elementi culturali elementi tecnologici quindi cosa diavolo è l'ambiente non possiamo più chiamarci fondo ambiente italiano quindi anche loro hanno questo problema quindi suggerirò loro di leggere il libro di Elena cos'è ambiente per i giovani cos'è l'ambiente per il sud del mondo Elena giustamente prende onestamente dice io ho un punto di vista occidentale mi occupo del punto di vista che conosco di più ed è giusto però è anche vero che ci sono modi di pensare all'ambiente anche diversi in altre culture e e poi mi piacerebbe chiedere ad Elena come utilizzerebbe la sua analisi della filosofia dell'ambiente rispetto a una decisione che è stata presa un anno fa che forse anche alla base di una tue riflessioni sapete che nella costituzione italiana l'otto di febbraio dell'anno scorso c'è stata per la prima volta nella storia repubblicana un cambiamento di uno degli articoli che contengono i principi fondamentali l'articolo 9 insieme con l'articolo 41 e nell'articolo 9 è stato aggiunto un comma che ha a che fare esattamente non con ciò di cui discutiamo questa sera perché da un anno a questa parte la costituzione italiana l'articolo 9 dice che la repubblica tutela il paesaggio paesaggio che è già un intreccio di elementi naturali e culturali e le conoscenze e così via le ricerche scientifica e da appunto da un anno difende anche tre parole nuove piuttosto come dire ridondanti perché si sovrappongono molto quindi è stata una scelta un po particolare cioè difende l'ambiente appunto gli ecosistemi la biodiversità hanno usato queste tre parole virgola anche nell'interesse delle future generazioni questo è un bel impegno obiettivamente perché anche un impegno transgenerazionale c'è anche questo tema nel libro chiudo soltanto con due altre domande o sollecitazioni di due aspetti che tu sfiori soltanto nell'ultimo capitolo quello proprio su ripensare l'ambientalismo che è molto interessante leggendolo a me è venuto in mente questo come faremo a definire l'ambiente tra poco quindi questa riguarda il futuro quando saremo capaci di fare per esempio vi faccio tre esempi di ed è una domanda che ti faccio ed è priva di qualsiasi tecno ottimismo eco modernista e te la faccio proprio in modo laico noi tra poco saremo capaci se vorremmo di per esempio estinguere intenzionalmente una specie perché abbiamo trovato abbiamo scoperto questa tecnica si chiama gene drive è un figlia del editing genetico non voglio tediarvi su spiegarvi la tecnica però insomma è una biotecnologia che permette di disobbedire alle leggi di mendel e per esempio di diffondere in natura maschi che si quando si accoppiano con le femmine le sterilizzano e quindi portano rapidamente al crollo di quella popolazione e all'estinzione perché lo abbiamo fatto perché per esempio ci piacerebbe estinguere alcune popolazioni di zanzare che portano la malaria e che fanno 450 460 mila morti all'anno che tipo di ambiente sarà quello dopo che avremo autorizzato questo tipo di intervento e se vi sembra fantascienza sappiate che è già stato usato due volte una in florida nelle isole keys due anni fa e una volta in brasile con esiti deludenti nel senso che funziona poco nel senso che è troppo limitato territorialmente quindi bisogna implementare la tecnica oppure come definiremo l'ambiente quando tra un po questo è ci vuole ancora qualche anno ma ormai ci arriviamo potremo non soltanto estinguere intenzionalmente una popolazione biologica ma potremo resuscitarla per esempio prendiamo il mammut mammut conosciamo interamente il dna prendiamo il dna di un'elefantezza indiana che gli assomiglia parecchio con la stessa tecnica che vi ho detto prima sostituiamo tutti i pezzettini del mammut quindi mammutizziamo il dna di un elefante e facciamo nascere un cucciolo con il dna di mammut e quindi una sorta di strano ibrido che dovrebbe assomigliare a un mammut i fondi sono già stati investiti e questa cosa probabilmente sarà fatta tra un po che ambiente sarà quello dove noi metteremo dentro spendendo tra l'altro un sacco di soldi animali e resuscitati anziché tra l'altro salvare quelli che potremmo salvare adesso dall'estinzione irreversibile vi ho fatto due esempi un po angoscianti ma potrei farvi invece degli esempi meno angoscianti per esempio che ambiente sarà quello in cui e questo possiamo farlo e purtroppo in italia non ci viene permesso di farlo con delle piccole modificazioni genetiche che non sono gm cioè non è l'inserimento di una sequenza esterna potremmo rendere resistenti a certe malattie alcune piante evitando di usare una quantità di chimica mostruosa di pesticidi di herbicidi che quella pianta lì sarà ancora naturale sarà artificiale cosa sarà in realtà noi anche questo è un po' un paradosso con un intervento tecnologico possiamo ripristinare una mela antica per esempio che esisteva una volta e che non c'è più possiamo farla ritornare in vita ed è la stessa che c'era millenni fa quella lì sarà artificio sarà natura che cosa cosa diavolo sarà quello che faremo insomma queste sono domande che questo libro crea incluso il fatto che nella costruzione di nicchia c'è anche questo rischio che tu giustamente descrivi che è la trappola evolutiva cioè se noi siamo una specie che ha imparato come darwin ci ha insegnato a cambiare il mondo per adattarlo a noi adesso cosa sta succedendo che a forza di cambiare il mondo adesso dobbiamo adattarci a un mondo che noi stessi abbiamo stravolto in fondo che cos'è no il climate change se non questo perché nei tutti i testi nei documenti internazionali si dice che dobbiamo adattarci no l'adattamento è diventata la parola chiave è sempre la stessa parola evolutiva no dobbiamo adattarci ma a cosa a un mondo che noi stessi abbiamo costruito e abbiamo modificato e questo è il gioco paradossale difficile in cui ci troviamo un gioco nel quale qualche volta potremmo avere successo vi faccio quest'ultimo esempio perché noi vediamo questa storia sempre in chiave pessimista cupa e di preoccupazione ed è giusto così perché abbiamo molto di cui preoccuparci però qualche volta ha funzionato forse avete ricordate tre settimane fa è uscita la notizia che abbiamo non dico risolto ma insomma abbiamo fatto qualche passo avanti nella soluzione di un problema ambientale che ci angosciava tantissimo 40 anni fa che era il famoso buco nello zono non so se avete sentito gli aggiornamenti cos'è successo è successo che il protocollo di montreal firmato nel 1987 comincia a funzionare ha funzionato però siamo nel 2023 e cos'è successo è successo che quel protocollo vietava no vi ricordate i gas cloroforo carburi quelli delle bombolette e dei frigoriferi abbiamo cambiato le filiere industriali la politica ha dato un indirizzo all'economia e piano piano l'hanno firmato tutti ha cominciato ad agire e adesso 35 anni dopo ha funzionato ha risolto il problema per il 70 per cento che non è poco non è per niente poco questa è una storia una piccola storia che ovviamente non è replicabile su scala globale per il climate change ma dimostra che cosa dimostra che quando noi vogliamo cambiare le cose ci diamo un indirizzo poi l'effetto dopo 35 anni il contesto te lo restituisce e i modelli scientifici avevano previsto a questa questo tipo di dinamica no tra altro aggiungo questa cosa perché mi spiace molto continuare a sentire questo argomento andiamo a vedere il protocollo di montreal e la soluzione del buco di ozono ha richiesto lacrime e sangue no non sono persi i posti di lavoro le filiere industriali sono state modificate sono state innovate sono state diversificate non è stata una tragedia dal punto di vista economico sociale al contrario ha portato innovazione e allo stesso tempo abbiamo anche risolto un problema ambientale no questo attenzione a questo ricatto no ambiente lavoro ecco queste sono tutte questioni che ti pongo dopodiché ti dico anche qual è la mia definizione di ambiente sulla base dopo che ho detto il tuo libro sono d'accordo con te che l'ambiente è sicuramente ambiente umano è ormai sempre umano l'ho detto io fin dall'inizio però secondo me l'ambiente è un ambiente umano che potrebbe benissimo fare a meno di noi e sbarazzarsi di noi questo è il paradosso che vedo in questo momento nel rapporto tra noi e l'ambiente e grazie per aver scritto quest'ottimo libro grazie a temo pievani per le sollecitazioni sono già tante interessanti come vedete il libro di per se presenta una quantità di problemi e inizia a dare delle risposte ma adesso la parola invece a maurizio ferraris che conosciamo tutti ordinario di filosofia teoretica presso il nostro dipartimento di filosofia e scienze ed educazione e direttore di scienza nuova all'istituto di studi avanzati che unisce un interstituto di torino e politecnico di torino tra i suoi libri più recenti agostino fare la verità post coronial studies uscito per inaudi e documanità per la terza grazie sono veramente molto felice di essere qui a presentare il libro di elena insieme a un così inclito gruppo di copresentatori e come dicevano mi diceva una volta il mio vecchio preside il sindaco di alessandria in un discorso dice siamo di fronte a un parquet de rois c'era anche il tema del parquet de rois comunque parto proprio dal dalla caratteristica saliente di questo libro che oltre a essere un libro estremamente ben scritto il che notate è una rarità generalmente anche nelle opere letterarie quindi figuriamoci nella saggistica estremamente attento all'uso delle parole per esempio l'analisi che viene fatta del della parola ambiente e una analisi che raramente uno si attenderebbe in un testo sull'ambiente però è vero che per esempio quando nell'ottocento nel settecento si diceva per dire circostante e così il fondo ambiente italiano sarebbe per esempio un gruppo di persone che si aggirano e questo sarebbe il fondo ambiente e la cosa ma del resto quando quando appunto si dice certi vini vanno serviti alla temperatura ambiente si intende con questo che la temperatura circostante cioè che ci sia una specie di omeostasi fra dentro e fuori della bottiglia ora oltre a questo quindi c'è questa consapevolezza che linguistica che concettuale che storica per esempio già appunto l'ambiente talmente poco natura che ha una storia e ha una storia complicata una storia non recentissima una storia che sicuramente però ha un punto di inizio cioè il momento in cui le persone hanno creato hanno scusatemi hanno cessato di credere che il mondo fosse un artefatto perché in una prospettiva creazionistica il mondo intero è un artefatto quindi è tutto artificiale e tutto opera di dio e questa è stata l'ipotesi prevalente fino a non molti secoli fa c'è un signore che ha fabbricati anche questo che ha fabbricato tutto e quindi distinguere lì fra naturale e artificiale diventa estremamente problematico perché è stato lui che li ha fabbricati e quindi è tutto una produzione una produzione industriale e quindi vale anche in un senso molto terapeutico rispetto a questi fenomeni così presenti adesso diciamo il greta tumberismo mettiamo così che in realtà non sono dei fenomeni interessati all'ambiente ma sono soltanto dei fenomeni interessati a creare sensi di colpa nell'umanità e fra l'altro potete vedere facilmente invito tutti a farlo non è body shaming al contrario è cogliere l'essenza di un carattere il famosissimo ritratto di martin lutero e greta tumberg sono pressoché identici e i loro caratteri sono pressoché identici perché consistono nel rimproverare al mondo i suoi peccati nient'altro che rimproverare il mondo i peccati del mondo è sempre quel tipo di atteggiamento pentitevi sarete puniti finirà male con una enorme quantità di diciamo così di di errori concettuali di ogni sorta perché per esempio l'isola di plastica nel pacifico anzi ce n'è più d'una mi sembra che ce ne siano due nel pacifico e un'altra nell'oceano atlantico da qualche parte ecco quelle lì sono del tutto naturali cioè la plastica non è soprannaturale è qualcosa che viene ottenuto attraverso degli idrocarburi che io sappia dei polimeri che derivano dalla dissoluzione dal di di animali antichissimi che adesso potranno anche essere essere risuscitati oppure la questione a cui ha fatto riferimento indirettamente molto opportunamente telmo sul sul fatto che noi possiamo creare un pianeta un ambiente che un ambiente che alla fine distruggerà noi stessi che stiamo in questo ambiente è possibilissimo è grave no chiaro poi può spiacere spiace però quelli che ti dicono che c'è lo possum sopra ogni cosa poi c'è il castoro poi c'è il l'ornitorinco e da ultimo ci siamo noi dovrebbero pensare che non è la fine del mondo se scompaiono gli umani e restano restano gli scoiattoli per esempio l'enorme crescita di scoiattoli e quindi quei discorsi che vengono fatti rispetto al salvare il pianeta per esempio che un controsenso assoluto nel senso che il pianeta andrà avanti perfettamente senza di noi e morirà di caldo senz'altro ma non per il global warming che stiamo producendo che al massimo farà sparire noi ma perché a un certo punto nella sua fase terminale il sole si gonfiere enormemente avvolgerà e sai che caldo finiremo tutti lì dentro no finiranno tutti lì dentro e c'è un'enorme quantità di altre forme viventi che aspettano soltanto che noi togliamo il disturbo e prendere il nostro posto hanno più diritto loro di vivere di noi no abbiamo noi più diritto di vivere di loro no perché non è una materia in cui si possa parlare di diritto eppure è tanto più necessario che l'ambiente venga affrontato con la filosofia e con la scienza perché è diventato letteralmente una religione e direi la religione del nostro tempo intercettata con l'usuale senso del contemporaneo della chiesa cattolica avrete notato che il dio inteso come vegliardo barbuto è considerato del tutto inesistente anche dal papa è stato sostituito da madre natura questa signora che viene violentata purtroppo spiace ma se viene violentata così si esprime il papa a questo punto si vendica ricorderete questa sorprendente dal punto di vista teologico discorso che fece il papa nel marzo del 2021 credo quando stava sotto una struttura in plexiglass anche lì naturale artificiale chi lo sa se l'avesse fatto in legno sarebbe stato più naturale che tanto hanno abbattuto l'albero comunque in cui lui diceva che appunto c'era la natura che era stata violentata e si stava vendicando notate non ha neanche sfiorato per un secondo quello che qualunque papa in altri tempi avrebbe affrontato cioè il problema della giustificazione di dio perché dio ha permesso questo questo è il classico problema che di fronte a pestilenze terremoti altre sciagure naturali veniva tirato fuori perché dio era quello che mandava avanti tutta la baracca e quindi se non funzionava qualcosa alla fine scrivete a dio prendetevela con dio e lui che ha causato questa cosa invece visto che più nessuno pensa che dio abbia creato un beniente neanche il papa a questo punto invece era madre natura che era stata violentata purtroppo con una prospettiva che si voleva non antropocentrica antropocentrica ed era la quintessenza dell'antropocentrico perché la cosa funzionava così c'erano dei cinesi che avevano mangiato dei pipistrelli e a questo punto la natura violentata si era vendicata sporcaccioni che mangiate tutti questi pipistrelli ma se per ipotesi dei pipistrelli avessero mangiato dei cinesi ci sarebbe stato ugualmente la reazione sdegnata della natura eccetera no quindi è chiaramente proprio una cosa che fa acqua da tutte le parti ed è tutto quanto soltanto costruito dal punto di vista dell'umana e sì no però voglio dire ci possono essere per esempio adesso ressuscitano degli pterodattili uno pterodattilo si mangia cinque cinesi in un attimo e non ci penso a due volte dopodiché che cosa fa la natura a questo punto si vendica sugli pterodattili al massimo si dice quegli sporcaccioni di umani che hanno risuscitato gli pterodattili la passione faustiana e malsana torniamo nella capanna torniamo tutti quanti in capanna questo è un po' il diciamo così il quadro mitico religioso in cui viene svolto generalmente il discorso sull'ambiente noi sappiamo benissimo che noi non viviamo in una società secolarizzata semplicemente che a una religione sussegue un'altra religione tra l'altro le religioni della magna mater sono religioni diffusissime nella storia e questa è semplicemente una nuova rappresentazione di questa religione con questo dire che qualcosa viene trattato in forma religiosa o mitologica o inappropriata non vuol dire che questa cosa non esiste ma il grosso lavoro che si trova a dover fare Elia in questo libro è invece per vedere perché la via migliore per fare una cosa sull'ambiente sarebbe pentitevi, redimetevi, la natura era una cosa bellissima e poi c'erano anche gli uomini nello stato di natura gli uomini nello stato di natura erano buoni, poeti, naturali facevano delle cose magnifiche, uno più buono dell'altro cioè erano cannibali, erano buoni in quel senso lì erano cannibali e prima ancora poi si nutrivano di porcherie, di schifezze per esempio del midollo delle carogne una roba, cioè questa è la vita allo stato di natura per piacere, già lo sobuco fa un po' senso ma immaginatevi questi che è il modo di vivere poi oltretutto erano anche incesposi, ne erano veramente di ogni e invece di quelli lì erano perfetti Rousseau aveva quell'idea lì ecco, ora il punto è riuscire a capire che cosa intendiamo con ambiente al di là appunto del sull'ambiente in senso extramorale mettiamola così, su ambiente e ambientalismo in senso extramorale a giusto titolo Elena dà nel suo libro anzi la professoressa casetta perché poi qui c'è una cosa di genere sembra Elena come astro Samantha no, la chiamo ecco, non la chiamo Elena perché gender biased ma semplicemente perché la conosco da 30 anni qua o giù di lì sì, sì, ok non mettiamo la cosa giusta da una ventina d'anni da quattro lustri comunque allora dà giustamente un ruolo preponderante a un autore che non immediatamente verrebbe allo spirito quando si parla di ambiente cioè Alexander von Humboldt questo è il motivo di questa cravatta che mi sono messo perché qui c'è la firma di Alexander von Humboldt che quindi sarebbe il come dire è il fondatore della riflessione sull'ambiente propriamente parlando e come sapete era questo signore che ha girato il mondo in particolare è stato in Sud America e poi attraverso una descrizione del di una sezione di questo vulcano che c'è da qualche parte in Sud America credo nelle Ande il cimborazo facendo vedere i tipi di piante animali che ci sono una certa altezza eccetera ha dato una prima descrizione di un ambiente cioè di un insieme circoscritto e mutuamente dipendente di principalmente guardato dal punto di vista del vivente nel senso che paradossalmente le piante e gli animali sono i veri attori dell'ambiente il vulcano molto meno perché perché non è vivo tornerò su questo punto che è abbastanza dirimente così facendo Humboldt Alexander faceva un lavoro affine a quello che suo fratello generalmente più famoso cioè Wilhelm aveva fatto con la lingua come sapete Wilhelm von Humboldt è stato il fondatore della linguistica storica romantica e aveva questa idea che avrà poi una grande fortuna del considerare la lingua come un organismo vivente quindi di nuovo l'ambiente un organismo vivente che in cui gli elementi sono connessi per cui se cambia un sistema vocalico cambieranno anche degli altri sistemi vocalici e poi ricostruire le filiazioni delle lingue come se fossero le filiazioni di una specie letteralmente un'origine delle specie prescritta nella storia delle lingue solo che l'archetipo originario era alla fine qualcosa di meramente congetturale cioè l'indo-europeo non c'è mai nessuno che ha parlato l'indo-europeo però si trovava l'elemento comune nel sanscrito nel moldavo nel valacco e nel toccarico ho detto cos'è perché oltre che nell'italiano nel piemontese nel francese e in tante altre lingue proprio a partire da questo sistema di corrispondenze per cui vedevi le filiazioni per cui hai zügater dotter tochter eccetera e queste cose evolvono evolvono nel nel tempo e attraverso la storia ora è chiaro che quando Humboldt inteso come Willem descriveva questo genere di processo era perfettamente consapevole che non è che la lingua fosse viva ma erano viventi parlanti della lingua e questo era ciò che insieme a una certa ruola invece di documenti scritti era ciò che permetteva la trasformazione delle lingue invece Alexander e poi coloro che sono andati a parlare dopo dell'ambiente e in particolare il più grande di tutti cioè Darwin hanno avuto piuttosto l'idea di pensare che l'ambiente non fosse qualcosa che sta nella testa delle persone quando considerano un insieme di elementi ma fosse qualcosa che esiste effettivamente lì fuori che c'è davvero un lì fuori che noi chiamiamo ambiente da questo punto di vista fra le varie dotte controversie che vengono riportate nel suo libro c'è anche la controversia che oppose retrospettivamente Jakob von Ueksküll che era questo biologo lettone anche nazista sì 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 beh comunque era no non aderito perché stava in Lettonia non potevi iscriverti al partito nazionale socialista stando in Lettonia però per esempio il piacere con cui Heidegger lo cita nei suoi corsi degli anni trenta perché anche Heidegger si occupa e paradossalmente benché dica un sacco di cose sbagliate vabbè no non era nazista non era nazista ho detto una una stupidaggine era semplicemente un nobiluomo lettone e Ueksküll comunque sostiene questo che l'ambiente è essenzialmente un costrutto culturale delle persone che considerano un un insieme di interazioni all'interno di uno spazio determinato Um Welt che poi è la traduzione letterale di ambiente cioè il mondo circostante Welt Um l'intorno c'è questo e per e per Ueksküll più un costrutto culturale con cui noi leggiamo qualcosa che esiste ben inteso ma non esiste lì fuori come è un po' come il problema se esistono le razze se vuoi un altro tipico tipico problema perché uno dice le specie mettiamola così perché uno dice ma veramente sembrerebbe che siano davvero soltanto gli individui e che le specie invece siano una una ricostruzione che noi facciamo per ragioni scientifiche più che motivate ma in effetti è solo l'individuo che 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 esiste allora su cosa si basa però il perché giustamente Elena dice qui Uwe X School è grosso modo un trascendentalista kantiano cioè dice che siamo noi che nell'osservare il mondo diamo forma al mondo a partire da certi concetti uno si chiede qual è il concetto a partire da cui tu realmente dai una dimensione alle cose che stanno dentro a un ambiente e qui io ritengo che il concetto sia quello di vita e il concetto di vita l'asse portante dell'ambiente nel senso che l'ambiente è sempre essenzialmente un ambiente dove ci sono dei viventi ed è un ambiente in funzione di viventi funzione ostile o funzione non ostile per inciso appunto quando si dice che adesso noi abbiamo creato un ambiente che potrebbe anche farci fuori anche l'ambiente di prima non era neanche tanto tanto benevolo quindi sembra un po' come quando c'è stato il terremoto in Anatolia e la gente ha cominciato a dire la colpa di Erdogan che ha fatto male alle case oserei suggerire mitemente che era principalmente se di colpa si può parlare di fatti naturali era lo spostamento di certe placche continentali in cui la fabbricazione di case antisismiche non era esattamente il punto fondamentale allora l'organismo e qui vengo alla conclusione perché ho tirato per le lunghe comunque l'organismo vivente ha questa caratteristica di essere o acceso o spento o vivo o morto questa è una differenza rilevante per esempio rispetto ai meccanismi un meccanismo poi accendere e spegno questo lo accendo lo spengo e se lo spengo non è che tutti ci mettiamo a piangere dicendo ahimè se ne andate il microfono non si accenderà già mai più no effettivamente è fatto per essere acceso e spento come quelle lampadine come tutti i processi che vengono sviluppati meccanicamente all'interno dell'ambiente umano l'ambiente umano direi è quell'ambiente di organismi perché siamo prima di tutto organismi che però è sistematicamente connesso con dei meccanismi da questo punto di vista io considero e questa è la domanda conclusiva che vorrei porre a Elena considero ambiente tanto una città quanto una foresta e per inciso è molto più la città che non la foresta che ci ha resi umani perché non è le dimensioni del nostro cervello che ha fatto sì che noi siamo quello che siamo perché per esempio i delfini hanno un cervello più grande e più performante del nostro se soltanto il problema è che i delfini stando in acqua non possono accendere fuochi raccontarsi delle storie intorno ai fuochi pensare di costruire delle capanne per evitare che il fuoco venga spento nulla di tutto questo e quindi come risultato noi siamo diventati quelli che siamo grazie ai supplementi tecnici di cui nella storia ci siamo dotati e loro i delfini sono quelli che sono proprio per perché non hanno avuto quella staserie di preadattamenti di condizioni di preadattamento che poi alla fine hanno fatto sì che qui non ci sia una accolita di delfini che parla degli umani ma un'accolita di umani dove c'è uno che sta parlando di delfini avrei preso la parola ma solo per farti una domanda quindi se ritieni metto in elenco allora te la faccio dopo ti lascio parlare dato che abbiamo già raccolto diverse sollecitazioni ci sono alcuni punti su cui mi piacerebbe chiederti ma lascio prima no ma sono molto cose legate più che altro al lavoro che facciamo insieme questo corso di ambiente etica tu ti occupi della parte di filosofia dell'ambiente io mi occupo di quella parte etica e tu nel libro chiarisci subito che d'accordo c'è anche l'etica ambientale ma badate è una sezione minima all'interno della questione allora io preoccupo della mia funzione io mi preoccupo della funzione residuale del corso no ma mi interessava capire questo perché effettivamente ritengo che l'etica ambientale sia all'interno delle questioni connesse alla filosofia morale una disciplina a quanto diciamo controversa no perché si presenta come un'etica applicata però mette in contraddizione con si mette in contraddizione con diverse teorie che solitamente noi utilizziamo come quasi come dogmi della riflessione morale penso alla distinzione tra descrizione e prescrizione no nel momento in cui tu per esempio descrivi l'etica ambientale come una sorta di parte diciamo non dico residuale perché non la descrivi così ma come una delle componenti della filosofia ambientale allora mi piace capire da te che cosa ritenga sia l'etica ambientale ammesso che sia qualche cosa e se da una considerazione di carattere appunto di filosofia ambientale tu riesca a ricavare mi pare di sì perché poi senza che tu lo espliciti ci sono dei riferimenti che possono essere che letti in ottica di etica ambientale però giustamente tu ti astieni da una posizione fai in modo che in qualche modo emerga dal testo se volessi magari esplicitarlo visto che qui è un po' sotto traccia ma magari hai voglia anche di dire qualcosa e poi un'altra domanda ma me la tengo eventualmente o per le nostre conversazioni oppure per dopo no 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 è la questione legata per esempio a quello che diceva Telmo prima che tu anche fai riferimento alla fine del libro quando sollevi il problema relativo alla questione dell'ambiente e al fatto che sia ancora funzionale questo concetto all'inizio però tu chiaramente dici che rispetto a natura sembra essere necessaria l'introduzione al concetto di ambiente oggi non è più così nel senso che andrebbe integrato descritto altrimenti riconfigurato lo stesso concetto di natura e nel libro tu utilizzi l'espressione natura come quello che rimane del non impatto umano ammesso che rimanga qualche cosa la wilderness qualche cosa che ma come diceva anche Telmo prima c'è davvero qualche cosa che non sia poi davvero allora mi chiedevo se poi non sia una riflessione da farsi in generale sul più ampio concetto di natura se non valga la pena per la filosofia ripensare il concetto di natura più ampiamente inteso e se lì dentro non ci siano anche le risorse ma questo è quello che ritengo io anche per il ripensamento della visione etica che poi non deve essere qualcosa di distinto dalla teoresi ma questa è una mia concezione che lascio ad altri momenti dunque grazie a tutti voi di essere qui e grazie per insomma per le belle parole spese per il mio libro e per le molte domande tutte interessanti e molti spunti di riflessione adesso io ho annotato tutto sono estremamente disordinata quindi devo tentare di raggruppare in maniera sensata le cose di cui vorrei parlare tentando di appunto rispondere alle sollecitazioni ricevute e allora partirei dalla natura visto che se ne è parlato ne ha parlato Emilio alla fine ed era anche la domanda iniziale la questione iniziale di Telmono oltre all'isola di Plastica di Maurizio quindi in questo modo dovrei riuscire a tenere insieme un po' di cose insomma allora se la natura vergine fosse un mito e secondo molti lo è appunto nel senso che il concetto soprattutto all'interno dell'ambientalismo statunitense il concetto di wilderness ovvero di appunto natura incontaminata è stato molto criticato è stato molto criticato per una serie di ragioni un po' perché appunto l'idea di una natura incontaminata quella che poi è diventata quella dei grandi parchi naturali dello Yellowstone o del Yosemite Park in realtà non era così incontaminata perché era era l'ambiente dei nativi americani no? solo che sono stati esterminati e quindi poi allora sembrava natura incontaminata e beh certo perché era il frutto di un genocidio quindi trattare quella come natura incontaminata come dire è piuttosto controverso ed è stato appunto molto criticato così come è stato criticato il cosiddetto modello Yellowstone o anche modello fortezza della conservazione della conservazione ambientale cioè l'idea appunto che si possono separare gli umani e la natura quindi costruiamo sostanzialmente delle delle palizzate mettiamo da parte dei pezzi di natura cosiddette incontaminata salvandola per dire così dall'azione umana e però appunto molto spesso queste azioni di conservazione basate sul modello fortezza comportano lo spostamento forzato delle comunità locali e delle comunità indigene ma questo anche adesso cioè non in tempi non soltanto in tempi passati e infatti è anche questa una delle critiche che è stata mossa a un diciamo non saprei a una proposta che è stata avanzata di recente che si chiama il Global Deal for Nature basata un po' sull'idea che bisogna allora l'idea originaria era 50-50 è stata una proposta di E.O. Wilson che appunto diceva bisognerebbe mettere da parte metamondo metamondo deve rimanere alle altre specie e non alla nostra ok mettiamolo via non deve essere toccato solo in questo modo possiamo conservare la biodiversità eccetera eccetera quindi questo rispetto appunto a quello che diceva Telmo prima è un discorso un po' controintuitivo perché poi invece quello che appunto sosteneva Telmo è in qualche modo controintuitivo perché invece le comunità locali e indigene hanno una storia di chiamiamola anche coevoluzione e di gestione della propria casa fondamentalmente cioè del proprio territorio che è una gestione che è riconosciuta come molto efficiente no il global deal for nature che è stato appunto proposto e abbastanza sostenuto di recente propone di mettere da parte il 30% si chiama anche 33 piacciono molto gli slogan in ambito di politica ambientale quindi è il 30 per 30 mettere da parte il 30% di cosiddetta natura incontaminata oppure riforestare oppure diciamo restaurare la natura tentare di riportarla ad una presunta condizione originaria metterne da parte il 30% e invece chiedo scusa entro il 2030 ora appunto queste operazioni sono da un lato come dire intuitivamente insomma ci sembra un po' la cosa da fare anche perché per esempio sappiamo che certi ecosistemi come per esempio le forese tropicali sono in grado di catturare più emissioni e quindi in qualche maniera di fare quella cosa che noi vorremmo essere capaci di fare cioè di togliere aniderire carbonica dall'atmosfera però non abbiamo ancora sviluppato tecnologie efficaci per fare queste quindi da un lato ci sembrerebbe giusto mettere da parte quella natura che noi riteniamo appunto vergine chiamiamola così dall'altro però effettivamente come notava Telmo la storia della interazione degli esseri umani con la terra è molto più antica di quanto pensiamo normalmente si tende a pensare che il grande impatto umano sulla natura risalga più o meno alla rivoluzione industriale e invece no è molto molto più antico e rispetto però Telmo a quello che dicevi l'abbandono delle montagne che anche qui controintuitivamente ha portato a una diminuzione della biodiversità pensavo ad un caso che è stato abbastanza studiato che invece è quello di Chernobyl perché Chernobyl è stato uno dei più grandi disastri ambientali chiaramente e adesso però rispetto adesso quindi è rimasto non popolato per molti anni la zona di Chernobyl adesso forse in questo periodo però diciamo che a seguito dell'assenza degli umani molte specie sono tornate a popolare la zona di Chernobyl e il tasso di riproduzione è più alto rispetto a quello fuori dalla zona di Chernobyl però c'è ovviamente un problema ossia che dato che le radiazioni sono agenti mutagini il diciamo la loro fitness è un po' più bassa rispetto alle specie fuori quindi probabilmente appunto diciamo controintuitivo che è un po' un modo per dire complicato nel senso che non c'è mai una regola unica quando si parla di queste cose rispetto appunto all'interazione tra gli umani e i loro dintorni e un altro esempio carino riguarda carino insomma un altro esempio interessante diciamo riguarda l'isola di plastica del Pacifico ok le isole di plastica in realtà non è che sono delle isole sono dei diciamo dei sono dei cilindri di quasi per la maggior parte microplastiche no che dei vortici che si formano a causa delle correnti oceani e si spostano quindi sono molto difficili anche da misurare perché appunto si spostano hanno scoperto però che appunto nelle isole di plastica si sono formate delle comunità animali ossia degli assemblaggi di specie nuovi inediti ovvero specie che tipicamente si trovano sulle coste adesso si trovano hanno trovato casa per dire così sulle isole di plastica l'idea ci fa in qualche modo inorridire perché noi adesso attribuiamo appunto un valore molto negativo alla plastica mentre non lo attribuivamo fino a 50 anni fa penso anche meno e ai sargassi in positivo mentre ho preso il fenomeno che i sargassi dovevano riprodurli perché è un luogo protetico esattamente e quindi questo non significa che l'inquinamento da microplastiche non sia un problema l'inquinamento da microplastiche è un problema enorme enorme ma quello che sto dicendo è appunto che le cose sono un po' più complicate e qui arrivo a Greta Thunberg cioè alla provocazione iniziale di Maurizio e al senso di colpa e allora che dire io in realtà nel mentre scrivevo il libro in realtà Greta Thunberg è stata un po' un'ispirazione per un per una ragione no è vero per quel discorso che ha fatto quello sul blab lo cito no non la prendiamo in giro nel senso che quella lei usa appunto la sua diciamo la protesta di Greta era sentiamo tante belle parole no green economy zero emissioni nette eccetera eccetera a queste parole non seguono azioni no e questo è anche una come dire un atteggiamento che ho trovato moltissimo nei nostri studenti e nelle nostre studentesse che magari vogliono fare tesi di laurea su argomenti di questo tipo o che vengono ai nostri corsi no cioè il fatto che non state facendo niente non stiamo facendo niente e però non è vero che non stiamo facendo niente appunto rispetto a 60 anni fa stiamo facendo tantissimo 60 anni fa non stavamo facendo niente 60 anni non sono tanti cioè in 60 anni la situazione è cambiata molto la coscienza rispetto alle questioni ambientali le cose che si stanno facendo eccetera eccetera quindi appunto il mio tentativo con il libro era anche un po' di se vogliamo non rassicurare i nostri studenti studentesi quello l'ho fatto stamattina perché c'è quest'altro fenomeno che si chiama l'ansietà climatica è un problema che viene studiato ossia questa ecco ansia il fatto che a fronte di questa situazione no di cui della crisi ambientale del cambiamento climatico eccetera eccetera di cui si parla moltissimo no e a volte forse non se ne parla con i toni con i toni adeguati non lo so molto spesso studenti e studentesse si sentono di dover far qualcosa e di non poter fare niente di non essere in grado di fare nulla eccetera 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 quindi appunto in qualche modo se vogliamo se vogliamo appunto il bla 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 di Greta Thunberg è stata un'ispirazione è stata un'ispirazione anche perché appunto lei dice lei usa delle parole no appunto green economy che sono un po' delle parole che diventano come le buzzword quelle che si usa si sentono sempre no costantemente anche un po' usate a sproposito eccetera eccetera e quando io ho iniziato a scrivere un libro sull'ambiente ho iniziato a scrivere un libro sull'ambiente perché non ho trovato una definizione di ambiente in nessuno dei trattati che ho letto in nessuna delle convenzioni in nessuna la prima conferenza sull'ambiente la prima conferenza globale sull'ambiente quella di Stoccolma del 1972 nella dichiarazione di Stoccolma non c'è la definizione di ambiente no mentre per esempio per la convenzione sulla biodiversità del 1992 il secondo articolo è per diversità biologica intendiamo la variabilità tra specie intraspecie e tra ecosistemi no e quindi appunto la mia riflessione in realtà è iniziata da dalla ricerca di una definizione no che non do nel libro però do una provo a dare quantomeno sia una diciamo una teoria un po' ambiziosamente nel secondo capitolo sia cerco di come dire di illustrare che cosa voleva intendere chi ha proposto il concetto moderno di ambiente e qui mi collego a quello che diceva Maurizio rispetto al concetto di vita allora secondo una ricostruzione che io ho sposato nel libro il concetto moderno di ambiente nasce all'interno del binomio organismo ambiente e questo binomio viene proposto diciamo nella versione appunto chiamiamola moderna da un filosofo che si chiama Comte che nel 1838 che voleva con questa lui proponeva una teoria generale del del milieu che è un altro modo per dire ambiente e voleva proporre una teoria della vita no perché secondo lui la vita non si poteva comprendere se non come una forma di correlazione tra l'organismo e l'ambiente oltre alla correlazione lui usa anche le parole corrispondenze usa anche la parola armonia quindi quest'idea che e lui ce l'aveva con un vitalista che si chiamava Bichard perché il vitalista diceva no ma la vita è una cosa intrinseca è una forza intrinseca agli organismi che consente loro di contrapporsi al decadimento finché c'è questa forza non decadono ok e invece Comte diceva beh no non è solo quello se non consideriamo tutto insieme cioè non possiamo considerare l'organismo senza il suo ambiente e secondo lui c'era una relazione era molto moderno in questo era molto contemporaneo direi perché secondo lui c'era una relazione di feedback ossia l'organismo determinava l'ambiente e l'ambiente a sua volta tornava a retroagire sull'organismo questo era inteso nei termini di una di una relazione di azione reazione newtoniana però insomma l'idea di feedback è quella che c'è poi nella teoria della costruzione di nicchie in qualche modo in maniera diversa perché Comte non era un biologo Comte il fondatore della sociologia insomma nasce lì quindi sì diciamo che il concetto di ambiente e quello di vita almeno anche nella lettura che io spuso nel libro sono strettamente connessi quanto tempo scusate io non so ho cinque minuti ma ci siamo quasi perché a questo punto io posso passare a parlare di che cos'è l'ambiente visto che è chiudiamo in bellezza e in che modo possiamo parlare di ambiente a fronte delle diciamo di queste novità possibili di cui parlava di cui parlava Telmo c'è sostanzialmente delle novità che delle possibilità che ci vengono offerte dalla geoingegneria no quindi la possibilità di eliminare certe specie o di farne diciamo o di de-estinguerne altre e mi collego anche in questo a quello che diceva Maurizio cioè che ambiente è tanto una città quanto una foresta no beh certo una città è il nostro ambiente nel senso che è il risultato della costruzione della nicchia umana no noi abbiamo costruito le città perché così abbiamo stabilizzato l'ambiente e le città sono più sicure per noi che non una foresta io se vado in una foresta duro poco tu meno figurati nella foresta pluviale è la fine quindi sì sono ambienti tanto le città quanto le foreste che cosa succede quando che cosa succederà se mai queste diciamo questo tipo se questo tipo di intervento diventerà quotidiano ma allora io qui concludo non lo so che cosa succederà nel senso che dal punto di vista della nozione di ambiente in realtà la nozione di ambiente è una nozione formale no cioè l'ambiente è il circondante quindi basta che ci sia qualcosa che è circondato e qualche cosa che circonda non importa che cosa sia poi chiaramente un ambiente può essere favorevole oppure no questo senza dubbio e l'impressione che io ho avuto rispetto a questo tipo di di tecnologie e è un po' non lo so io non sono interamente mi è capitato di andare a a partecipare ho partecipato a dei focus group chiamiamoli così a Potsdam dove si tentava di comprendere c'erano ecologi due filosofi e degli ingegneri climatici e si cercava di capire appunto quali fossero le possibili conseguenze negative rispetto a questo tipo di interventi sia dal punto di vista se vogliamo appunto filosofico cioè quale tipo di natura dobbiamo poi dobbiamo rivedere il concetto di natura no si parla per esempio adesso di nature ibride o di novel ecosystems quindi di ecosistemi nuovi cioè che non che non di diciamo di assemblaggi di specie che non abbiamo mai visto prima perché non sono il risultato di una lenta storia evolutiva ma sono diciamo il risultato dell'azione umana eccetera eccetera e rispetto a questo tipo di interventi appunto come la geoingegneria per eliminare la specie di zanzara c'erano gli ingegneri climatici tipicamente entusiasti e gli ecologi che dicevano no aspettate perché capire che cosa succede a un ecosistema nel momento in cui si tocca un pezzo è molto molto complicato perché gli ecosistemi non sono sistemi lineari sono sistemi complessi quindi nel momento in cui tocchiamo qualche cosa ovviamente si fanno dei modelli cioè si tenta di semplificare per vedere che cosa forse succederà però insomma prima di mettere le mani su quelle cose lì almeno gli ecologi sono molto prudenti in genere sulla distinzione certo a me piacerebbe tantissimo vedere un dodo dal vivo diciamocelo però effettivamente penso che come scriveva Serenella Iovino in un articolo uscito di recente su Repubblica forse al momento conviene investire le risorse economiche che ci sono nella conservazione delle specie insomma quelle che abbiamo ancora ecco questo quindi io credo di aver all'incirca toccato i temi di cui sei Emilio no l'etica allora scusate no però l'etica ambientale quello lo devi dire tu che cos'è perché fa parte del tuo modulo quindi io non mi sento no in realtà anche io avevo un punto sull'etica ma Maurizio poi ti do subito la parola due chiose rispetto a quello che è stato detto una riecheggiando quello che diceva Maurizio Giulio Natta e Carl Zigle quando vinsero il premio Nobel per la plastica nel 63 usarono un'espressione molto forte ti dissero abbiamo fatto il materiale che Dio si è dimenticato di inventare che è proprio la plastica che è proprio questa metafora come dicevi tu Maurizio dal punto del creatore del sostituirsi l'argomento del disegno è un argomento che passava dall'artificio e ti diceva che il naturale era uguale all'artificio quindi come l'artificio è fatto da un creatore anche il naturale è fatto da un creatore quindi è una radice molto profonda che lega appunto questi aspetti premettimi solo su Darwin perché l'ho notato anch'io nel libro è vero che Darwin concepisce l'ambiente come un'entità oggettiva e la usa in questo modo però alla fine si contraddice come gli capita spesso nel senso che Darwin poi dà dell'ambiente una concezione fortemente relazionale e dinamica quindi lui dice è tutta una trama di relazioni e ogni volta che io studio qualcosa sto facendo la fotografia di un processo poi porta alle estreme conseguenze questa sua idea e diventa un nominalista diventa un convenzionalista lui dice le specie non esistono sono solo delle etichette che io appiccico su delle collezioni di organismi le razze non esistono non sono ben sicuro neanche di cos'è un individuo perché le colonie non so bene quindi alla fine divento un nominalista quindi è strana questa cosa perché il pensiero di Darwiniano è pieno di queste venature però il punto che volevo sopporre io è molto simile a quello di Emilio cioè non ho tempo di argomentare quindi lo dico proprio con uno slogan se noi non riusciamo a trovare una definizione condivisa di ambiente se dopo che saremo capaci di distinguere fare tutte quelle cose secondo me questa è la mia risposta noi chiameremo ambiente ciò che noi oggi non chiameremo mai ambiente nel senso che diventerà nativo di chi nascerà in quel contesto e chiamerà ambiente quella cosa lì allora se come tu dimostri nel libro non c'è come dire una base se non una difficile negoziazione concettuale secondo me questo è il mio sospetto alla fine quello che noi facciamo rispetto per esempio alle nostre politiche ambientali può essere motivato solo eticamente solo sulla base di un giudizio morale nel senso che io motivo il mio impegno sul fatto che credo per esempio in un'idea di giustizia intergenerazionale o che ritengo ingiusto scaricare sui miei figli un debito ambientale non c'è nulla di scientifico in questo è un giudizio morale che io esprimo che io argomento come Emilio insegna e alla fine è questo perché anche Greta è vero che la postura e il linguaggio è quello del senso di colpa però poi alla fine se vai a leggere i contenuti di quello che Greta dice è una ragazza che dice signori ascoltate la scienza ci non è poi un messaggio particolarmente rivoluzionario ci sta dicendo leggete natural science per favore perché vi dicono che abbiamo un problema e lei è un'arrabbiata perché è una portatrice di interessi secondo me che dice voi mi state danneggiando voi mi state creando un problema voi mi scaricate un debito su di me quindi alla fine è un conflitto intergenerazionale di interessi quindi ecco però il punto è l'etica secondo me cioè alla fine il tuo libro paradossalmente che è vero che dice che l'etica la tratteremo un'altra volta non la tratti però forse ti porta proprio a una conclusione dimmi cosa ne pensi per cui alla fine è un giudizio morale quello che farà la differenza proprio per quello che tutto quello che Maurizio ha detto prima sul fatto che l'ambiente fa meno di noi che sopravvivrà anche se ci autoestingueremo quindi alla fine perché dovremmo impegnarci ci dobbiamo impegnare perché elaboriamo un giudizio morale su questo mi ricollego sulla questione appunto tutto ciò che è legittimamente morale ha come primo obiettivo secondo me proprio il fatto di togliere di mezzo il moralismo il moralismo è la cosa più nociva rispetto alla morale ed è per questo che appunto la mia è pure allora non ce l'ho con Greta ce l'ho con Lutero perché anche Lutero si limitava a dire leggete la Bibbia però con che aria come se solo lui avesse capito e tutti gli altri 1500 anni di tradizione erano tutti scemi ha capito tutto lui è un modo di fare che non mi va in generale però adesso non voglio prendermela con una teenager e quindi me la prendo con il capo della riforma protestante per dire etica ambientale a me è capitato di sentire una riunione di architetti burloni secondo me ma parlavano con estrema serietà dove dicevano che la città è un ambiente ostile all'animale effettivamente uno potrebbe pensare che effettivamente se è favorevole all'umano e quindi volevano fare una città che potesse avere anche degli spazi in cui gli animali potessero vivere ed essere protetti esattamente come se stessero fuori città io ho posto questa domanda ma supponi che in una di queste vostre tane per animali finisse un barbone lo cacciate perché è un umano cioè c'è una polizia che dice no questo è per gli animali fila via evidentemente no e allora sembrerebbe che anche qui c'è un fortissimo elemento di tipo antropocentrico è ovvio che se noi parliamo di morale se noi ci poniamo il problema della morale cosa che sicuramente i castori non si pongono si pongono tanti problemi ma veramente dire cosa è giusto e cosa è sbagliato in un'assemblea di castori mi sembra difficile concepirlo è perché è tutto visto come è naturale che sia visto che abbiamo i limiti di essere umani e guardiamo come esseri umani da un punto di vista antropocentrico un ultimissimo punto che volevo far notare che all'interno di tutto questo sguardo sulla natura fortemente condizionato da una visione moralistica e per esempio considerare male ogni intervento sull'ambiente notate per esempio le bonifiche nel medioevo le coste italiane erano per lo più acquitrinose impraticabili piedi di zanzare eccetera sono state fatte le bonifiche io non credo che uno potrebbe dire che questo tipo di intervento sull'ambiente è stato un intervento nocivo anche perché tra l'altro adesso si cerca di far fuori tutte queste zanzare e un po' hanno cominciato a far fuori quelli con le bonifiche oppure nel Mato Grosso voi trovate tranquillamente dei distributori di Coca-Cola mentre nell'English Garden di Monaco non trovate neanche un pezzetto di carta grosso così eccetera che cos'è la natura vergine no è l'educazione delle persone che cos'è 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 che cos'è